musica 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 ma cattiglia ma veramente 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 ma che c***a dice musica 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 vai più avanti ma sei sicuro che è fuoristrada? beh sì è uno sterratino questo non è uno sterratino vabbè questo qua è uno sterratino nonno questo è brutto nonno questo non so se riesci a no 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 non ce la fa no dov'è il nonno no no non sai guidare ma tu dove sei volato? lascia stare voglio saperlo allora ok andiamo no noi stiamo andando da un tizio a fare gli infiltrati uno sopra l'altro su un quad giallo gli aspetto nudo con uno zainetto capisci che non siamo e sai quella cosa veramente assurda? che lui ci prenderà serio ehi ecco stiamo andando gli humans non lo so io non vedo la mappa nonno ma ce l'hai davanti? ma porca tira di giù non vedo c***o il tumulo in faccia tira di giù tira di giù ma si non deve salve ehm suppongo voi siate i nostri visitatori? si corretto siete stati invitati ok bene allora procedete pure a dritto grazie ti lancio il cuore non riesco a scendere fai dritto fai dritto fai dritto scendi dal famoso cosa fai non riesco a scendere oh c'è una Lamborghini dove? lì non ho la visione non ho la visione morto what the f*** bravo 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 figlio di p***a però bravo però bravo però bravo però bravo però bravo perfetto venga porzone è un volo di 7 milioni no 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 oh 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 ehm aspetta ehm ahahahah questo qualcuno stava con questo signore scusi ehm siamo siamo caduti dalle scale diciamo che lui ha preso il corner oh p***a oh 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 packages trava in marcar行 lavavasse ma trying to ti lascio un asco non una cappella però va bene così però va bene così scivido sb ne dici anche tu con il paracadutas che ti possa ad aprire benedisce padre figlio spirito santo benedisce benedisce tutto quanto andato e ripartito poi tornato il quarto giorno crivellato segno di croce alzati dal peccato e cammina benedici stufalist padre benedici benedice anche lui benedice anche questo che potrebbe sparare la gente benedisce il nostro militare che ci aiuta benedisce anche questo che c'è una camicia inguardabile benedice queste persone prego militare vuole la benedizione ok subito subito aspetti che adesso le passo l'acqua santa questo qui arriva direttamente dal cappellano ecco fatto questo è l'acqua santa del cappellano di nomine padre te figlie te spiriti santi che tu sia benedetto nostro fratello di sole mi raccomando che oppia sempre il tuo lavoro che hai tutta la fede che sai la forza di uscire di casa cercare di andare a rischiare la vita benedici 35 euro benedici benedici tutti quanti qui c'è un morto allora tu che sei morto sei rimasto bravo tutta la tua vita ti assolvo dei tuoi peccati nomi di padri figli spiriti santo sai il portafoglio lo tengo io per la chiesa allora adesso cominciate tutti a ballare per la vergine maria forza che compare stai a sentire faccio questo freestyle speriamo di vivere e non di morire spero di vivere questa vita fratello mi piace guardarti non il tuo uccello siamo noi siamo noi andiamo aiutare di ori mi sa che c'è stato un freno sono troppo giovane occhio da dietro troppo giovane grande Elvis no tranquillo cuccio Orazio credo di aver sparato a Diori che strano non è mai successo Orazio lo vi gli ho sparato quasi in faccia Orazio mi è sembrato minaccioso non l'ho riconosciuto ma anche io lì perché gli ho sparato due tre colpi Orazio devo dirti una cosa sono astigmatico si rende conto che lo devo portare in Pacific io ho visto movimento ho sparato perché a me piace ballarmela di prepotenza sono il cazzo di re della città io me la ballo sopra i cessi nel primo piano del palazzo del palazzo mi sono fatto anche i tatuaggi con i dashi per farvi vedere quando sogno cazzudo sogno cazzudo scendiamo da qui scendiamo da qui scendiamo da qui scendiamo da qui allora vediamo se mi ricordo da dove si scende che male oddio Elvis è qua è qua sono arrivato che bozza sia nulla cosa mi sta facendo mi scusi ma che cosa sono una fotomodella ma perché sono ammanetato agente io non faccio nulla ma lei non ha nulla allora io non capisco agente può smanettarmi li vedi cosa vogliamo fare siamo rimasti due contro uno in teoria vogliamo che è successo no ma è distrutto dove c'è il cavo uno da me uno da me uno da me io non ragazzi mi dispiace ma è ovvio che non posso sapere parco diaz che cosa succede se non sento parco diaz user join your channel tua madre join your channel tuo padre rejoin your channel user disconnected ma come c***o ma non lo posso fare non lo posso fare non lo posso fare ma parco di frutti di bosco